Al via gli interventi sul canale Maestro della Chiana all'altezza della chiusa dei monaci. Alcuni giorni fa vi avevamo mostrato le immagini della zona. Nel canale Maestro della Chiana si notavano distintamente i solotti di rami ed altri detriti ed addirittura avevamo documentato la presenza di un grosso elettrodomestico, forse una lavatrice o un congelatore proprio all'interno del canale. Adesso sono iniziati i lavori di ripulitura della zona. La parte alta del tratto è già stata infatti liberata da rami e detriti. Ancora presente l'ingombrante elettrodomestico ma che a breve dovrebbe essere rimosso. Stiamo intervenendo, questo è un intervento che non ci competeva però lo faremo in via del tutto eccezionale. Io ho sempre sostenuto anche negli incontri, mi ricordo i primi, che facevo oramai sette anni Orsono e avevo segnalato questa cosa anche alla provincia come questi residui, televisori, frigoriferi, lavatrici, condizionatori e via discorrendo venivano gettati nei fiumi, nei torrenti, nei corsi d'acqua comunque inquinando in maniera importante. Voglio qui aprire una parentesi, lì insiste un nostro progetto che è un contratto di fiume. Una sorta di consiglio che viene messo in piedi da una parte di cittadini, da imprenditori, da istituzioni e via discorrendo. Noi abbiamo un tratto sperimentale di circa 20 chilometri che vada scesa alle porte di Montepulciano dove faremo una pluralità di interventi. Il nostro obiettivo è quello di far rivivere un canale maestro della Chiana che possa essere al servizio dell'agricoltura, al servizio dell'ambiente e al servizio dei cittadini.